Ecco, vedi, questo è un fondamento. Questo è il testimone che sotto c'era qualcosa di incestuato. Perché questo è confuso qui. Perché qua l'hanno costruito. Non usci le corvi perché questo è un caldiere. 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 E' un caldiere. Dove sta il caldiere? Io non vedo nessun cartello. C'è qualche cartello di caldiere in acqua. Chi è lei? Ha visto un cartello là. L'acqua è un caldiere. Ma non è un caldiere. Ma non è un caldiere. Ma non è un caldiere. Che è qui? Un bordello. Più o meno. In senso generale non questo particolare. La città di Foggia è un bordello. Che è un caldiere. Non si può finire il caldiere. Grazie.